4 giugno 2022 messaggio della madonna a treviniano romano nella chiesa si verserà sangue e pregate per i potenti perché vogliono portarvi alla morte figlia mia nonostante le mie lacrime continuate a vivere nell'indifferenza anche i miei figli prediletti non hanno l'umiltà del silenzio e della contemplazione figli piango perché io so cosa arriverà a breve e voi continuate a vivere come se non conoscesse la verità figli miei nella chiesa sarà versato sangue pregate per i potenti perché vogliono portarvi alla morte il substrato della terra si riscalderà così tanto che anche molti pesci del mare moriranno figli miei tornate a dio vostra unica salvezza e convertitevi ora vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen grazie a tutti